Buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Super J, eccoci ad un altro appuntamento di eventi ed intorni, il nostro format che vi ricorda e vi darà tutti gli appuntamenti del fine settimana e non con gli eventi del territorio teramano, provinciale e regionale. E allora partiamo subito perché questo pomeriggio a Teramo alle ore 18 presso la biblioteca Melchiorre Delfico ci sarà la presentazione di Storia di tre pagine, l'ultimo libro di Emilio Tritella. Vediamo il servizio. Il quinto libro di Emilio Tritella si intitola Storie di tre pagine e verrà presentato giovedì pomeriggio alla biblioteca Delfico di Teramo. L'autore nel suo ultimo scritto racconta storie brevi con esattezza 52 racconti di circa tre pagine di persone ed episodi che hanno allietato la sua esistenza dall'infanzia ai nostri giorni in una chiave speciale, una passeggiata insieme ad alcuni cari amici che hanno fatto una gradevolissima compagnia all'autore nel passato. Il filo conduttore del libro, quello che lega tutti i racconti è un taglio umoristico e soprattutto parlo di persone che mi sono simpatiche, che hanno allietato la mia esistenza. Comunque l'umorismo ci salva. Guarda, la scelta del titolo di un libro è una cosa difficilissima, per me è risultata la cosa più difficile perché bisognava sintetizzare in una specie di pochissime parole quello che era il contenuto del libro. Sono 52 racconti e non riuscivo a trovare una sintesi. Poi anche con un mini sondaggio tra amici e tutto ho optato per questa soluzione di storie di tre pagine perché i racconti oscillano tra i due, tre, quattro pagine. Sono racconti brevi. Originario di Campli, dove ambienta la maggior parte dei suoi racconti, l'autore del libro sarà alla presentazione giovedì pomeriggio insieme agli altri relatori. Nicolino Farina, un amico nonché giornalista storico, un architrave della cultura camplese e mio compagno anche di infanzia. Poi il professor Siziano Falconi, un amico di Sant'Onofrio, insegnante di italiana storia all'Istituto Lorozzi e poi ci sono anche io. E allora l'autore Emilio Tritella, originario di Campli e noi rimaniamo proprio a Campli con l'associazione Caschetti Gialli che presenta il primo memorial Gianluigi Ragni. Un evento dedicato alla memoria del giovane operaio di Campli tragicamente scomparso alla prematura età di 26 anni a causa di un incidente sul lavoro. Il memorial si terrà sabato 28 e domenica 29 settembre presso la sede dell'associazione Campovalano Viva. Le serate presenteranno stand enogastronomici, iniziative sociali e culturali e concerti con musica e DJ set. Evento di punta è il concerto gratuito proprio di sabato 28 settembre con Joe Evan. E andiamo avanti, si svolgerà all'Osteria Pizzeria i Vecchi Sapori a San Nicolò a Tordino, la prima edizione dell'October Fest. 27, 28 e 29 settembre ci saranno tre elementi principali, una delle birre più buone al mondo, l'Augustiner Oktoberfest Beer, cibo tipico tedesco e la buona musica che aglieterà tutte e tre le serate. E ora ci spostiamo però sempre in territorio terramano ma sul mare perché torna a Roseto il premio di saggistica Città delle Rose, giunto alla sua ventiduesima edizione. Si terrà sabato alle ore 18 presso la villa comunale. Vediamo il servizio. È stata presentata questa mattina in municipio a Roseto la ventiduesima edizione del premio di saggistica Città delle Rose che si terrà sabato 28 settembre dalle ore 18 all'interno della villa comunale. Un evento divenuto ormai fisso nel cartellone delle manifestazioni rosetane. Tra i vincitori Roberto Esposito e Costis a Bradatan. Il premio sicuramente continua, la sua storia, la sua tradizione, la sua importanza a livello nazionale e internazionale prosegue nel segno del ricordo anche della dottoressa Alaska, di Nicole Cavicchia. Ringraziamo quindi il segretario Daniele Cavicchia e tutti quanti quelli che hanno lavorato duramente tutto l'anno per avere questo premio, questa ventiduesima edizione. Ecco, possiamo fare già qualche nome, qualche nome importante come ci sono stati negli ultimi anni? Assolutamente. I vincitori sono oramai di dominio pubblico, quelli delle sezioni italiane e straniere, quindi Roberto Esposito anche il professore Costis a Bradatan per la sezione stranieri. Quindi una rassegna sicuramente all'insegna della filosofia, due professori, uno della scuola normale di Pisa, uno della Texas University. Quindi abbiamo molto da ringraziare chi ha inventato questo premio e tutte le amministrazioni che l'hanno voluto portare avanti e ci goderemo questa bella serata di cultura nella nostra villa, nel nostro salone che, insomma, tanti eventi sta ospitando e che continuiamo a rendere grande con questa tipologia di eventi. E da oggi fino al 26 ottobre, dunque per un mese, presso la Biblioteca Melchiorre Delfico di Teramo, ci sarà la mostra fotografica dedicata alla resistenza teramana a cura di Antonio Topitti. Incentrata principalmente sulla battaglia di Bosco Martese, la mostra ripercorre le gesta dei partigiani teramani che si spesero per la resistenza. Domani, venerdì 27 settembre, andrà in scena, presso il campus universitario Aurelio Saliceti dell'Università di Teramo, la Notte dei Ricercatori. L'iniziativa che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori ha l'obiettivo di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante. E andiamo avanti, torniamo a Campli, ma non solo perché sabato 28 e domenica 29 sono in programma le giornate europee del patrimonio. Con l'occasione il Museo archeologico di Campli organizza un'apertura serale straordinaria e una visita guidata gratuita dei depositi del museo. Il servizio. Sabato 28 e domenica 29 settembre tornano le GEP, le giornate europee del patrimonio, una fra le più estese partecipate manifestazioni culturali d'Europa. Nelle due giornate saranno organizzate visite guidate, aperture straordinarie e iniziative nei musei e nei luoghi della cultura, statali e non. Il tema di quest'anno scelto dal Consiglio d'Europa è patrimonio in cammino. Anche al Museo archeologico nazionale di Campli due giornate di eventi straordinari aperti a tutti. Anche quest'anno il Museo archeologico di Campli partecipa alle giornate europee del patrimonio che è un evento promosso dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione europea a cui aderiscono tutti i musei statali europei. In particolare sabato 28 avremo un'apertura straordinaria dalle 20 alle 23 al prezzo simbolico di un euro, mentre domenica 29 alle 17 ci sarà una visita guidata incentrata sul tema delle giornate, ovvero il patrimonio in cammino, dove ci si concentrerà sul far notare come la comunità di Campovalano non fosse una comunità isolata ma inserita all'interno di una serie di reti di scambi commerciali e culturali che abbracciavano tutto il bacino del Mediterraneo. E inoltre avremo anche l'apertura straordinaria dei nostri depositi dove sono conservati tutti i materiali che provengono dagli scavi della necropoli e così da far vedere come un oggetto archeologico dallo scavo attraverso poi opera di restauro, studio e catalogazione e finisce in un museo per essere poi fruito ai visitatori. La visita è per tutti, famiglie, piccoli, grandi e studiosi, è gratuita, è rivolta a chiunque. E torniamo a Roseto perché Amar Eventi presenta Beer & Sound, quattro giorni di emozioni e musica, di momenti indimenticabili e di nuove amicizie. Da stasera 26 settembre fino a domenica 29 sul lungomare Trieste presso il Lido Amar. Tanti ospiti musicali tra gli altri la banda Bardot. L'evento con ingresso gratuito è stato organizzato anche in collaborazione con il comune di Roseto degli Abruzzi. Torniamo a Teramo perché domenica 29 settembre l'associazione orchestrale teramana Benedetto Marcello compie 40 anni con una giornata incentrata e dedicata sulla musica in città. Il servizio. L'associazione orchestrale da camera Benedetto Marcello compie 40 anni. Per l'occasione domenica 29 settembre, giorno della sua fondazione, ci sarà un'intera programmazione musicale nella città di Teramo. Tappa alla corte interna della biblioteca delfico e alla chiesa di San Domenico. Costituita nel 1984, l'orchestra da camera ha iniziato la propria attività concertistica dedicandosi prevalentemente al vasto repertorio italiano, soprattutto inedito del XVIII secolo. Il 29 settembre dell'84 è avvenuta la costituzione dell'associazione orchestrale da camera Benedetto Marcello. Quindi abbiamo pensato di dedicarla tutta ai nostri ricordi, ma anche alla città se vuole partecipare. Invito tutto a partecipare perché dalle 10 di mattina siamo alla corte della biblioteca con delle prove aperte, con la prima tromba dell'Accademia di Santa Cecilia. Poi a mezzogiorno ci saranno i saluti delle istituzioni e un piccolo aperitivo. Ricominciamo poi nel pomeriggio alle 16, 16 e 30 e lì ci saranno tutti i gruppi della Benedetto Marcello che si esibiranno in piccoli brevi concerti. Sono gruppi che hanno rappresentato sia in città che fuori l'associazione in questi 40 anni di attività. Poi finiremo alle 21 con il concerto serale alla chiesa di San Domenico e quindi ci sarà sempre la prima tromba all'Accademia di Santa Cecilia in tre concerti per tromba e archi e basso continuo e concluderemo in gloria con il gloria di Vivaldi con il coro delle nove di Pescara. Questo è un compleanno che nell'effettivo poi dà il via tutta la stagione dell'orchestra Benedetto Marcello. Certo, vuole essere in là per la stagione autunnale. Il primo concerto vuole essere questo del 29 che farà poi spero da traino agli altri appuntamenti che inizieranno il 13 di ottobre. E ci spostiamo in territorio pescarese perché presso il padiglione Daniele Becci del porto turistico marina di Pescara ci sarà il Vintage Market sabato 28 e domenica 29 settembre dalle 10 alle 22. Sarà possibile ammirare e acquistare articoli di antiquariato di tutti i tipi con espositori presenti da tutta Italia. E con questo è tutto, io vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo settimana prossima con eventi ed intorno. Ciao!